La Salernitana pensa al mercato e dalla trasferta di Mantova di domenica sera. Martuscello e Petracchi lavorano su piani non tanto paralleli perché da uscite d'entrate, che eventualmente ci saranno entro la mezzanotte di domani sera, dipenderà anche il discorso prettamente tecnico. Per ora Martuscello sa che difficilmente avrà a disposizione Soriana e Maggiore, mette in conto le defezioni certe di Ghiglione, Reina, Adelaide e Dalmonte e sa che non avrà callone per squalifica. L'ex Verone è stato quasi indotto alla reazione dalle insufficiente Feliciani, che non ha certo avuto una gestione impeccabile della gara e dei cartellini. Ingeno e plateare però l'attaccante Granata dovrà mordere il freno. Il mercato entra nel rush finale e Petracchi proverà a piazzare ancora qualche colpo in uscita per poi avere spazio anche per entrate in un momento successivo. Ferrari e Joapero sono svincolati e da oggi lo è anche l'esperto terzino ex Benevento Letizia. Il Verone e il Salisburgo sono su Daniluk. Gli scaligeri hanno offerto il centrocampista Ruzzic, mentre Ghilardi potrebbe passare alla Cremonese. Si dovrà definire in quest'ora il futuro di Braverc, Legoschi e Koulibaly. Alle eventuali uscite corrisponderanno delle entrate. Il conto alla rovescia per il gong della mezzanotte di domani è cominciato, poi però potrebbe esserci l'opportunità di rivolgersi al mercato degli svincolati.